In questo numero coronavirus è istituita la task force in Toscana, le autorità sanitarie regionali in contatto 24 ore su 24 con il ministero, le prefetture e i sindaci, il console cinese. Terremoto nel Mugello, la regione pagherà le perizie sugli edifici danneggiate, un manuale per sapere come ottenere i contributi pubblici. In Toscana servizio civile nel pronto soccorso degli ospedali nell'ambito del progetto Giovani Sì. Rigenerazione urbana e sicurezza, due nuovi bandi sono stati emanati dalla regione toscana, 6 milioni di euro investiti nella videosorveglianza. Il Porretana Express inaugura l'anno del treno turistico, cerimonia Pistoia, poi il viaggio sullo storico itinerario. Per gestire l'emergenza nazionale coronavirus, la regione toscana ha istituito una task force permanente attiva, coordinata da Emanuela Balocchini, dirigente del settore prevenzione collettiva della regione. Le autorità sanitarie regionali sono in continuo contatto con le prefetture, i sindaci, il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, per monitorare la situazione e mettere in atto tutte le iniziative necessarie. Quando il Ministero della Sanità ha reso noto che i due turisti cinesi ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma, primi due casi in Italia di persone che hanno contratto il nuovo coronavirus, sono passati da Firenze, gli uffici regionali hanno immediatamente attivato l'indagine epidemiologica per intracciare i possibili contatti a rischio. Finora tutti i casi sospetti di coronavirus individuati in Toscana si sono rilevati negativi. La Regione Toscana pagherà le perizie sugli edifici danneggiati dal terremoto del 9 dicembre scorso. Lo ha annunciato il Presidente della Regione, Commissario per il Sisma Enrico Rossi, nel corso di due assemblee pubbliche che si sono tenute a Scarperia e Barberino del Mugello. Sono 450 le unità immobiliari danneggiate per un totale di 144 edifici. I contributi per l'autonoma sistemazione di chi ha dovuto lasciare la casa vanno da 400 a 900 euro e ammonta a un massimo di 25.000 euro il contributo per il ripristino del patrimonio immobiliare. Obiettivo? Rendere di nuovo agibili al più presto gli edifici. Abbiamo individuato intanto come prima fase l'avere per ogni unità immobiliare la perizia da parte di un architetto o di un ingegnere che ci dica all'incirca qual è la spesa necessaria. Una volta che avremo queste perizie potremo fare una valutazione più approfondita e capire anche come aiutare quelle situazioni un po' particolari che non sono contemplate nella ordinanza del Presidente del Consiglio. Arriva a un massimo di 1.500 euro poi il contributo per il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. I giovani interessati a svolgere il servizio civile d'ora in poi potranno farlo in Toscana anche nel pronto soccorso degli ospedali pubblici nell'ambito del progetto Giovani Sì. I posti a disposizione sono 130 e vi si accede dopo una selezione e un periodo di formazione. Le informazioni ai familiari che aspettano, l'assistenza e l'ascolto anche delle persone che sono in attesa, fornire generi di conforto magari alle persone stesse per fare in modo che l'attesa e pronto soccorso non carichi di ulteriore tensione e fatica le persone che naturalmente aspettano di avere notizia dei propri congiunti o aspettano di essere prese in carico dal sistema complessivo della sanità. I giovani selezionati per il servizio riceveranno un compenso di circa 430 euro mensili per 12 mesi. La formazione sarà incentrata sull'uso di defibrillatori, sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzazione del sistema sanitario, percorsi assistenziali, accoglienza, conoscenze utili anche per un futuro lavorativo. La regione toscana ha emanato due nuovi bandi per finanziare i progetti di sicurezza urbana. Il primo interessa la riqualificazione delle piazze, dei quartieri più fragili e il potenziamento della polizia di prossimità con un investimento di un milione di euro. Il secondo riguarda 120 progetti di videosorveglianza finanziati con oltre 2 milioni e mezzo di euro. La spinta che noi possiamo dare anche agli enti locali è una spinta propositiva per andare a rieoccupare gli spazi pubblici dalle forze positive della società e non lasciarli quindi a un possibile degrado. Dall'inizio della legislatura la regione toscana ha investito quasi 6 milioni di euro in videosorveglianza, dei quali hanno beneficiato quasi tutti i comuni toscani. Il Porrettana Express ha inaugurato il 2020, anno del treno turistico sulla storica linea ferroviaria che da Pistoia sale sull'Appennino Tosco Emiliano, realizzata tra il 1852 e il 1864. L'evento inaugurale ha preso il via dal deposito rotabili storici di Pistoia al cui interno è stato allestito un museo ferroviario. Il fatto che il ministro Franceschini sposi questo progetto e lo faccia diventare un progetto nazionale ci rafforza nella convinzione che è giusto da parte della regione non aver mai chiuso nessuna linea, anche quelle più piccole e quelle più deboli dal punto di vista commerciale perché possono avere e danno invece un grande ruolo e una grande prospettiva in chiave di sviluppo di un turismo sostenibile. Ricordo che quando è stata razionalizzata la rete ferroviaria da parte della regione toscana sulla Porrettana si è aperto un dibattito. La linea Porrettana è quella che ha unito l'Italia molto prima del 1861 e ancora oggi costituisce l'unica valida alternativa alla direttissima ma intorno a questo binario storico si è sviluppata una rete di associazioni e si è mobilitata un'economia locale che deve essere adeguatamente sorretta. Il servizio Porrettana Express prevede otto viaggi sui treni storici da giugno a ottobre tutto all'insegna del turismo lento che valorizzi il territorio. Il servizio Porrettana Express